Il sindaco e la giunta hanno abbandonato le associazioni animaliste di Gela. Noi senza aiuto non ce la facciamo. Sono numerosi infatti casi di randorgismo e di mancata prevenzione che si verificano a Gela. E che fine ha fatto il centro di sterilizzazione presentato dalla precedente amministrazione e dall'ASP protesta dinanzi al palazzo municipale, un modo per sensibilizzare la giunta a collaborare con le associazioni. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Il Mondo di Pluto. Noi chiediamo all'amministrazione quello che avevamo ottenuto negli anni passati. Per cui la microcippatura, perché andarli a microcippare a Niscemi non sempre è possibile. Noi siamo solamente tre volontari attive, e dicasi tre. Quindi ci dobbiamo occupare di andarli a microcippare, di andarli a vaccinare, di custodirli, di accudirli, di farli partire. Cioè, alcune volte è difficile andare a Niscemi e dobbiamo ripiegare a Gela pagando. Ma pagando con i soldi che non abbiamo, perché noi fondi non ne abbiamo più. Noi viviamo con le donazioni, alcune volte arrivano, alcune volte no. Per cui, prima avevamo la microcippatura a Gela, avevamo iniziato ad avere la sterilizzazione, avevamo messo anche dei cani nel territorio una volta sterilizzati. Due dei quali sono stati adottati, pur essendo liberi nel territorio. Per cui tutte queste cose sono venute a mancare. E l'amministrazione, questa di adesso, è assente. A 360 gradi. Una sola riunione con il signor sindaco. Io dissi, chissà che cosa ci deve dire. No, ha parlato del randaggismo come a calappiare i cani. Ma, a parte che non era una cosa nostra e poi non potevamo dare nessuna indicazione su come farlo. Una sola riunione e via. Il sindaco ci ha liquidati così. Ora, questi canuzzi, il signor sindaco non sa che sono suoi. La responsabilità è sua. Quindi noi, come liberi cittadini, non ci possiamo mettere a suo posto, uscire soldi di tasca nostra. Noi, volentieri, facciamo il volontariato, usciamo, ci perdiamo ore, perdiamo tempo. E però, giustamente, noi i fondi non ne abbiamo più. Prima ci hanno dato un fondo. Non è che era moltissimo, per carità. Però era sempre qualcosa. Cioè, 1.500 euro. Non è che erano che si ci poteva scialacquare. Ma qualcosa siamo riusciti a farlo. Adesso, zero. A sindaco non interessa niente.